Il pressing sul governo contro il rigassificatore si fa trasfrontaliero. Quest'oggi qui a Capodistria, al Palazzo Operatorio, è stato firmato un documento da parte di tutti i sindaci costieri da Trieste a Pirano per dire no all'impianto e invitare i due governi, italiano e sloveno, a collaborare in materia ambientale ed energetica. La lettera degli amministratori del Nord Adriatico chiede al governo italiano di non realizzare il rigassificatore a Zaule, a quello sloveno di confermare la sua contrarietà all'impianto e intende dare sostegno alla regione che si era già espressa per il no. Il fatto di dire no poi è un duplice significato, sia nei confronti del governo sloveno, che noi riteniamo sia condizionante rispetto alla possibilità di fare o no il rigassificatore, sia nei confronti del governo italiano ovviamente, ma anche di sostegno alla regione che dovrebbe essere condeterminante nella approvazione o meno di questo progetto. C'è un disegno condiviso per un altro tipo di sviluppo, per cui turismo, movimentazione dei traffici navali normali, ambiente, valorizzazione di queste aree in un altro modo di integrazione economica, come previsto anche dalla collaborazione del GECT. All'incontro pubblico a Capodistria erano presenti sindaci e assessori di Trieste, Muggia, Sandorligo, Dolina, Capodistria, Isola, Pirano e Ancarano, la presidente della provincia di Trieste con l'assessore all'ambiente e alcuni parlamentari sloveni, oltre alla rappresentante del Ministero dell'Ambiente di Ljubljana, che a sua volta ha riportato una lettera del suo governo indirizzata ai nostri ministri dell'Ambiente degli Esteri, che esprime grande preoccupazione per il recente via libera ambientale dato all'impianto di Zaule e chiede maggiore collaborazione tra i due paesi. E stanno agendo, mi pare, con molta serietà, convinzione e in perfetta collaborazione per apporsi in tutti i modi, in tutte le sedi a questa realizzazione, sia a livello europeo che a livello italiano, ma anche a livello legale. Per il Comune di Trieste il sindaco Cosolini ha invitato i due governi a progettare insieme le scelte energetiche, ricordando quanto esse incidano su un territorio comune. L'assessore Laureni ha ripercorso l'intera vicenda del regassificatore, di cui si parla da ormai dieci anni, ritenendo infine della massima importanza l'esito dell'incontro di oggi.